Se volete aggiungere un Time Profile per le chiavi in ePassant Manager, iniziate facendo clic sul pulsante Utenti e profili di accesso. Utilizzate le opzioni a discesa sul lato sinistro per selezionare Profili temporali e poi Profili temporali delle chiavi. Cliccate su Aggiungi un profilo di accesso e inserite un nome per il nuovo Time Profile. Quindi, selezionate il periodo di tempo durante il quale desiderate che gli utenti abbiano accesso. Una volta fatto ciò, è sufficiente fare clic su Salva. A questo punto, i nuovi profili temporali dovrebbero apparire sul lato sinistro.